buonasera ben trovati eccoci ad un nuovo appuntamento con la profumeria romana la storia della profumeria romana così come ce la narra plinio il vecchio nella sua naturalis historia e questo è uno degli appuntamenti che teniamo in occasione delle celebrazioni del bimillenario della nascita di plinio che si hanno in questo lungo 2023 nella città di como quello che affronteremo oggi è un ulteriore aspetto che lega plinio alla storia della profumeria romana e che vede come protagonisti i profumieri quindi questi personaggi che abbiamo definito nella slide personaggi di dubbia reputazione ora vedremo perché e come ce ne parla anche plinio le professioni legate al profumo nell'antica roma sono diverse le fonti citano innanzitutto gli unguentari che sono coloro che vendono i profumi oggi li definiremmo liquidi ma abbiamo visto che nella nostra lunga nel nostro lungo escursus sulla profumeria romana si trattava in realtà di profumi oleosi quindi coloro che vendono olio unguenti erano appunto gli unguentari c'erano poi i turari cioè i venditori dei profumi da bruciare tusturis era l'incenso quello che usualmente noi consideriamo l'incenso quello che brucia e quindi erano coloro che vendevano quelli che oggi definiremmo i profumi per ambienti e poi avevamo con un'ulteriore definizione l'uso di un termine che è quello di seplasiani che invece ci collega a un luogo particolare di cui parleremo anche successivamente cioè seplasia seplasia era una piazza di capua capua luogo fondamentale per quanto riguarda il commercio dei profumi nella campania romana e seplasia era appunto il centro di questo commercio dove questo commercio avveniva e sia cicerone sia plinio quest'ultimo nel libro trentaquattresimo della naturalis storia citano seplasia come sede di una corporazione unica di profumieri e di farmacisti e qui entra dunque nella nostra narrazione un'altra figura quella del farmacopole i farmacopole erano coloro che vendevano i medicamenti e certamente vendevano anche profumi i profumieri poi coloro che li creavano i profumi erano in relazione con un'altra figura quella degli aromatari gli aromatari erano coloro che importavano e vendevano le spezie e con gli erbari plinio ce ne parla nel libro 20 che invece erano coloro che fornivano le piante medicinali alcune delle quali rientravano ovviamente nella formulazione di quelli che erano i profumi che curavano i profumi medicamentosi pensiamo all'uso delle rose e quindi a questo genere di prodotti i profumieri come abbiamo accennato poc'anzi erano uniti in corporazioni e nell'urbe era presente il collegium aromatorium mentre le botteghe dei professionisti degli aromi erano concentrate in un luogo ben definito un quartiere che era il velabro dove c'erano due vie il vicus unguentarius e il vicus turiarius in cui operavano appunto gli unguentari e i turiari e poi il commercio si spostava anche lungo la via sacra le botteghe dei profumieri erano al tempo stesso un luogo di produzione e di vendita di profumi una farmacia una sala d'attesa un luogo di socializzazione e quindi il profumiere era una figura centrale in questo micromondo e favoriva in qualche modo lo svolgersi delle relazioni tra i suoi concittadini. Abbiamo citato in video precedenti Petronio Arbitro e ritroviamo che nel satiricon Petronio Arbitro ci racconta di un profumiere che si chiamava Agato il quale ovviamente di ascendenza greca il quale nella sua bottega di Pozzuoli dava un consiglio molto importante per dirimere una determinata questione a uno dei protagonisti del romanzo che si chiamava Trimalciore. Quindi oltre ai cosmetici agli unguenti alle resine profumate è attestato che nelle profumerie si potevano acquistare anche dei farmaci. Torniamo al nostro Plinio, torniamo alla Naturalis Historia. Nei libri quindicesimo e ventitresimo Plinio menziona il fatto che città come Selge in Asia minore e i Gubium che poi è divenuta la nostra Gubbio in Italia avevano acquisito una notevole reputazione per la produzione e la vendita di medicinali che appunto ivi venivano prodotti. E sulla base quindi di queste attestazioni possiamo concludere che in tutta l'epoca antica la figura del profumiere non è distinta da quella del farmacista. Io vi ho citato spesso come fonte il professor Giuseppe Squillace in un intervento che ha tenuto durante una conferenza che ha avuto luogo presso la libreria Studium di Venezia nel dicembre del 2022 il professore ha ricordato che i profumieri molto spesso avevano un'origine straniera generalmente greca oppure egiziana e molto spesso questa origine era anche servile. Gli unguentari che costituivano il cuore della professione così come l'abbiamo ricordato solitamente erano degli schiavi oppure dei liberti e a capua sono state rinvenute delle iscrizioni cinque nella fattispecie che facevano riferimento a degli unguentari e in quattro di esse si indicavano come liberti. La quinta invece dà ha detto alla formulazione dell'ipotesi che il profumiere fosse figlio di un liberto e dei due profumieri noti in un altro centro di eccellenza per la profumeria romana che era Pompei uno era un liberto e l'altro invece che rispondeva al nome... no uno era un liberto e l'altro invece era uno schiavo scusatemi. Colui che rispondeva a un nome famoso era invece un profumiere ben noto a Roma che era Epafroditus la cui identità è attestata all'interno di un'iscrizione di una dedica che è stata lasciata in una grotta di Itaca la grotta di Polis e di Epafroditus sappiamo proprio da questa iscrizione che era proprietà di un certo novus quindi era un schiavo. La produzione e soprattutto il commercio dei profumi erano delle attività redditizie nel mondo romano grazie agli utili ottenuti dalla vendita di questi prodotti costosi di questi ingredienti costosi grazie al valore aggiunto che era dato da quella che abbiamo definito finora la tecné quindi il savoir faire dell'artigiano ma grazie anche alle numerose frodi sulle spezie che erano tanto diffuse quindi per i liberti per gli schiavi affrancati l'accumulo di ricchezza attraverso la pratica di quest'arte di questa professione era anche sinonimo in qualche modo di una rivalsa a livello sociale e questo desiderio di ascesa sociale è oggetto di svariate testimonianze L'Unguentarius Marcus Decidius Faustus era un ex schiavo che divenuto minister Augusti fece scrivere una dedica nel tempio di Apollo a Napoli nel terzo secolo dopo Cristo a Lugdunum quindi nell'odierna Lione Pisonius Asclepiodotus ricoprì la carica di Sevir Augustalis chi erano i Sevir? Il Sevirato era una delle magistrature minori a carattere prevalentemente onorario e nelle città municipali questa carica era principalmente ricoperta da dei liberti arricchitesi quindi per queste persone aveva un fortissimo valore simbolico in quanto era considerata un mezzo per testimoniare l'affrancazione della schiavitù da un lato ma soprattutto la loro ascesa sociale e nel territorio corrispondente all'odierna Grazzano Visconti il Seplasiarus Hermes Veccius si potè permettere persino di farsi erigere un monumento funerario dotato di un giardino mentre ad Augusta Taurinorum Lucius Flavius Celer che di professione faceva il Turiarius fu Sevir Augustalis ancora una volta quindi erano cariche di sicuro interesse ma altrettanto sicuramente minori non esistono delle iscrizioni dell'epoca che ci attestano che un profumiere abbia potuto ascendere ad una magistratura di grado superiore o che abbia raggiunto un grado alto nelle magistrature locali il motivo è molto semplice l'arte del profumiere era una sordida art era qualcosa la professione del profumiere era estremamente denigrata il profumiere per le sue relazioni con le donne con gli oziosi che stazionavano all'interno della sua bottega veniva visto molto spesso come un ruffiano un ruolo che a volte era effettivamente svolto e nel terzo secolo dopo Cristo l'autore ignoto della naturalis della scusatemi della storia Augusta che abbiamo già ricordato proprio con la vita Elio Gabbali definisce in questo volume la profumeria come vi dicevo prima sordida arts e il basso status dei profumieri quindi questa questo mancato riconoscimento sociale non ne impediva però l'ascesa per quanto riguardava l'accumulazione di ricchezza quindi non abbiamo la possibilità di salire di grado nella scala sociale ma nulla impediva ai profumieri di accumulare notevoli ricchezze in realtà però coloro che ottenevano i proventi maggiori in questo settore erano altre figure i proprietari degli oliveti da cui si traevano le basi per i nostri profumi questi famosi oli i proprietari dei giardini di rose i grandi latifondisti campani dove si coltivavano le rose utilizzate nelle preparazioni cosmetiche medicamentose i proprietari delle botteghe di spezie e quanti le importavano all'ingrosso dall'oriente e vedremo poi questo tema più in particolare parlando della profumeria nella campagna felix vi ho citato prima seplasia come luogo di di scambi e di importanti commerci seplasia era nota anche per un altro fatto e l'abbiamo lo vediamo qui nella nostra slide l'ho intitolato l'arte della frode tangenzialmente abbiamo citato fino adesso la campagna come luogo privilegiato per la coltivazione delle materie prime e la produzione dei profumi più amati dalla società romana antica napoli lo ricordiamo ancora una volta nel libro del tredicesimo della naturalis historia viene citata proprio come un luogo di eccellenza per la produzione del suo profumo di rose e di meli e cotogne e altrettanto capua era rinomata per il suo pregevolissimo profumo di rose il famoso rodino la città di capua però viene è menzionata molto spesso anche da diverse fonti di epoca differente quindi ci scostiamo un po' dalla trattazione pliniana e tutte ne sottolineano il legame con il mondo dei profumi e più in generale con il lusso e proprio a capua come abbiamo detto si trovava questa piazza ricordata dalla tradizione antica come sede delle botteghe dei profumieri e mercato dei profumi steplasia abbiamo precedentemente fatto cenno a un atteggiamento critico di molti intellettuali antichi nei confronti del profumo a cui appunto non è stato estraneo neppure il nostro plinio ecco l'uso del profumo veniva visto come vizio come perdita della virtù come corruzione e capua e in particolare seplasia dalle fonti letterarie è associata ad un episodio che noi tutti conosciamo quello degli ozzi di capua fatali alle truppe di annibale che avevano sconfitto i romani a canne nel 216 avanti cristo dopo la vittoria di canne i cartaginesi avevano insediato il proprio quartier generale proprio a capua e l'inverno ivi trascorso come testimoniato da tito livio nel suo a burbe condita aveva infiacchito la tempra delle truppe che non erano abituati in alcun modo agli agi della città campana contribuendo poi in modo determinante alla rivincita che questa volta volse a favore dei romani quindi si aveva un'interpretazione delle vicende che si basava su una sioma che era quello di profumo uguale corruzione uguale perdita della virtù uguale sconfitta e questo caratterizzò buona parte della restante tradizione storico letteraria e quindi il connubio tra seplasia luogo di corruzione dei cartaginesi e i profumi divenne un topos nelle fonti giustificato anche dalla presenza in loco di un gran numero di profumieri e dobbiamo ancora una volta a plinio la possibilità di disporre di informazioni circostanziate su seplasia nel libro trentaquattresimo della naturalis historia che abbiamo citato poc'anzi plinio fa riferimento alla stomoma alla stomoma una lanugine che era ricavata dal rame e che veniva utilizzata nella preparazione di medicinali e cita seplasia come luogo noto nell'antichità per lo svolgimento di questa attività ma il giudizio espresso da plinio è tutt'altro che l'usinghiero plinio scrive infatti seplasia è il luogo che tutto rovina con le proprie frodi quindi la povera gente malata che affidandosi a medici incompetenti si riforniva di impiastri di colliri di dubbia fama o di inesistente efficacia preparati in modo approssimativo e sulla base di ricette di dubbia affidabilità diveniva vittima delle frodi di seplasia della fraus seplasi e il giudizio negativo di plinio sulle attività commerciali che avevano luogo a seplasia non riguardava soltanto l'ambito medico ma anche soprattutto quello relativo alla produzione e alla vendita dei profumi nella sezione del libro sedicesimo dedicata agli alberi selvatici plinio descrive il pino selvatico che ha botanico picea e riferisce che quest'albero secerne una resina abbondante che si sedimenta in granuli bianchi simili per aspetto a quelli dell'incenso e proprio puntando su questa somiglianza i profumieri di seplasia mescolavano i granuli bianchi della resina di pino a quelli dell'incenso adulterandolo e quindi si aveva una frode a tutti gli effetti considerando la differenza di prezzo tra la materia prima incenso che veniva dal lontano oriente ed era costosissima e la resina di pino selvatico che era facilmente reperibile in tutta italia e aveva anche un prezzo contenuto e è un aspetto questo dell'adulterazione di cui abbiamo già parlato analizzando i contenuti dei libri dodicesimo e tredicesimo e ricordiamo ancora una volta che soggette ad adulterazione erano materie prime per profumi costosissime e che venivano appunto dall'oriente come il pepe il bedello il nardo la momo l'incenso la mirra il mastice di chio il ladano il cinnamomo la cassia il balsamo di giudea la gomma ammoniaca lo storace e il galbano dai dati riportati da plinio con la precisione che ormai li conosciamo e vinciamo che nella maggior parte dei casi le sostanze adulterate erano ricavate da piante largamente diffuse in tutto il bacino del mediterraneo e che la falsificazione delle spezie era soltanto parziale ossia parte della materia prima originaria era presente nella miscela però parte veniva sostituita da qualcosa che aveva un costo inferiore oltre alla mescolanza della resina di pino selvatico con l'incenso possiamo ricordare quella del pepe con il ginepro di cui abbiamo già probabilmente fatto menzione e ricordare che alla mirra veniva amalgamato del succo di cocomero che serviva per aumentarne il peso e in questo modo incrementare i guadagni di coloro che perpetravano queste frodi quindi noi abbiamo sempre parlato fin qui di plinio come un uomo sì ovviamente attivo ma anche molto meditativo dedito allo studio come mai plinio ha delle informazioni così precise così circostanziate su questo argomento delle frodi riuscendo a darci definizione di contraffazione di materie prime che spesso venivano da luoghi estremamente lontani dello scacchiere imperiale romano quali sono state le fonti a cui plinio ha attinto come ha fatto a reperire queste informazioni questo è uno dei quesiti che ci si pongono affrontando l'argomento contraffazione da un lato possiamo pensare che il suo ruolo di alto funzionario imperiale che lo aveva portato a insediarsi a risiedere in svariate province e i suoi contatti di natura personale soprattutto con diplomatici militari esploratori ma anche mercanti abbiano consentito a plinio di entrare facilmente in possesso di dati ufficiali inerenti alla vendita delle spezie per profumi accanto a questi dati ufficiali però il nostro naturalista di novo comum parrebbe anche trarre notizie da un secondo canale quello dei mercati quindi traendole da coloro che vendevano farmaci e profumi in questo caso è quantomeno strano che plinio si sia recato di persona per raccogliere queste informazioni di prima mano è molto probabile che invece si sia servito dei suoi servi incaricandoli di riportargli informazioni precise sull'argomento e che per lui erano particolarmente preziose e i dati forniti da plinio nel libro dodicesimo principalmente portano a credere che alcune delle frodi di cui si riferisce principalmente quelle relative alla contraffazione dell'opopo balsamo e del pepe avessero come primo scenario i grandi mercati principalmente quelli egiziani e medio orientali nei quali affluivano le spezie provenienti dalle contrade più esotiche come l'arabia l'india il corno d'africa invece la presenza tra le sostanze usate per la contraffazione di aromi mediterranei o di profumi già confezionati come quelli di rosa di enna di lentisco di terebinto o di mirto porta a ritenere che la truffa si consumasse anche e soprattutto i mercati più vicini a roma tra i quali è probabile che vi fossero quelli della stessa roma e di capua una città che era poco distante dalle ville che i ricchi romani si erano costruiti come luoghi di ozium sia sulle coste del lazio sia sulle coste della campania compresa quella di plinio stesso che era a distanza a capo miseno come riporta il nipote plinio il giovane nelle sue epistole pertanto se plinio incrociando dati ufficiali e dati ricavati sul campo aveva modo di confrontare i prezzi di vendita e di rivendita degli aromi allo stesso modo integrando le informazioni che gli venivano dalle contrade più lontane con quelle ottenute in luoghi a lui più vicini e più familiari come i mercati di roma e di capua riusciva a tracciare un quadro molto preciso delle frodi commerciali attinenti ai profumi addentrandosi in un labirinto di conoscenze del quale solo gli esperti del settore conoscevano segreti tecniche e antidoti e quindi le pratiche di contraffazione di cui ci dà un ritratto così vivido nella sua naturalis istoria non intaccavano però la reputazione di Seplasia che con i suoi profumi era riuscita a catturare e a soggiogare sia le bellicose truppe di Annibale sia noti politici romani assurgendo al ruolo di centro profumiero di eccellenza dove si fabbricavano i belletti di qualità del ceto benestante dell'urme e con questo abbiamo concluso la trattazione dell'argomento frodi con contraffazioni e Seplasia. Grazie per essere stati con me.